Ehi, tu come ci sei arrivato qua giù? Oh beh, dopo io e te ci facciamo una grigliata. Houston, abbiamo l'autorizzazione al lancio? Affermativo, permesso accordato. Confermato lancio fra dieci secondi. Conto alla rovescia. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre. Due, uno. Mani in alto! In questa città non c'è spazio per tutti e due. Cosa? Hanno avvelenato il puzzo. È proprio andato. Sei tu che sei andato, piccolo delinquente. Proprio così ce l'ho con te, Sid Phillips. A noi non piace saltare in aria, Sid, e finire in poltiglia o in mille pezzi. Noi? Esatto, noi giocattoli. Mamma. 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 Lo sapremo, Sid. Sappi che noi giocattoli vediamo tutto. E perciò riga dritto. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. I giocattoli, i giocattoli sono vivi. Bella bambolina. Pratati, se non puoi giocare con me, con Sally. Ottimo lavoro, amici, davvero. Venire fuori dalla terra, poi, è stato un colpo di genio. Grazie. Su, salutate la nostra casetta. Udi, vanno via. Ciao, casetta. Dobbiamo scappare, grazie, amici. Presto! Va pure, io ti raggiungo! Baga, grazie. Non posso fare.